Un disegno tattico della Juventus, un disegno possibile, un tridente con vertici che potrebbero anche essere intercambiabili cioè un vertice principale in avanti che potrebbe essere Vieri con due giocatori leggermente alle sue spalle un po' più larghi cioè Boxic e Del Piero, probabilmente Del Piero a sinistra e Boxic sulla destra ma ci potrebbe essere anche l'eventualità delle due punte, in questo caso Vieri e Boxic con Del Piero leggermente arretrato quindi davanti alla linea dei centrocampisti, per questo naturalmente poi dovremmo attendere quella che è la risposta del campo ossia pochissimi minuti perché come vedete le squadre stanno entrando sul tappeto verde delle Alpi agli ordini dell'arbitro Cesari che dirige la sua 87esima partita in Serie A un fischietto naturalmente affidabile, un fischietto importante per una partita importante tra l'altro Cesari ha debuttato proprio contro la Juventus in Serie A nel lontano ormai 1990, 16 dicembre per Juventus Cagliari, fu un 2 a 2 un totale che ci regala la regia di Cettina Mamoliti ci ha scoperto ancora una volta qualche vuoto sugli spazi soprattutto per quanto riguarda le tribune principali affluenza maggiore invece per le due curve Tyson Peruzzi, capitano, uomo simbolo di questa Juventus ma soprattutto uno dei grandi segreti di Marcello Leppi splendido condottiero di questa squadra qui intanto la regia mano a mano ci scopre i volti dei protagonisti si è parlato tanto di Cristian Vieri una sua accessione che sembra sempre più probabile ormai più che possibile nel campionato spagnolo, nella Liga, l'Atletico Madrid una trattativa ormai molto avanzata ma lo stesso Vieri ha detto non diamo per scontato non diamo per conclusa una trattativa che per il momento non lo è per il momento io sono estremamente contento di quello che è il mio rendimento stagionale in questa Juventus e anche aver vinto per certi versi lo scetticismo da parte della tifoseria giocatori importanti anche per Mutti che ha fatto un lavoro prezioso con il Piacenza lo sta guidando alla salvezza ma attenzione al recupero del Cagliari quindi si vivrà questa sfida che partirà tra pochi secondi nell'ottica del finale del campionato soprattutto per le sfide Juventus-Parma e Piacenza-Cagliari domenica prossima ma anche per vivere insieme le emozioni di Juventus-Piacenza perché certo lo scudetto e la salvezza per le due squadre passano proprio attraverso il delle Alpi tutto pronto facendo Cesari allora si parte con il Piacenza che tocca il primo pallone di questo confronto vi ricordo rapidamente quelle che sono le formazioni Piacenza in maglia rossa con freggi bianchi con Taibi, Conte, Dellicarri, Valotti, Tramezzani, Lucci, Di Francesco, Valtolina, Luiso, Moretti e Scienza solita maglia naturalmente bianconera invece per la Juve con Peruzzi, Giuliano Tacchinari, De Champorini, Dimash, Di Livio, Jugovic, Boxic, Del Piero e Vieri bisogna fare molta attenzione anche ai cartellini gialli ci sono giocatori diffidati da una parte e dall'altra in panchina, lo ricordo, pronto a subentrare per la Juventus Zidane così come Lombardo, Amoruso e Conte due attaccanti in serbo anche per Motti con Piovani e Tentoni e soprattutto l'esperienza di PIN, l'ex dell'incontro è stato recuperato per il momento soltanto per la panchina e viene Cesari per comandare un calcio di punizione a favore del Piacenza pochi secondi sul cronometro naturalmente, 0-0 per la Juve Piacenza non dovrebbe discostarsi quello che è l'atteggiamento abituale, lo schieramento del Piacenza cioè con il libero in questo caso Lucci che adesso va a impostare leggermente staccato tra le difensioni centrali con Conte sulla destra Conte che tra l'altro è reduce Mirko Conte dall'ora del realizzato il suo primo gol in Serie A e per il Piacenza l'out conquistato Tramezzani sulla rimessa subito la Juve con le mani di Livio Deschamps Masha Iugovic in posizione più centrale per lui rispetto al solito proprio per la presenza di Del Piero che per il momento agisce largo a sinistra sulla linea dei centrocampisti eccoli il processo di palla Dimash in sovrapposizione resiste a Di Francesco Del Piero ottimo poi l'anticipo da parte di Delicarri protagonista anche all'andata lui segnò infatti il gol del Piacenza nell'1-1 con Galleana per la Juve la rete di Padovano rapidamente vi ricordo anche i numeri con fronti diretti in Serie A sono cinque Piacenza non ha mai battuto la Juventus tre vittorie bianconere e due in pareggi nelle sfide qui a Torino due ha sempre vinto la Juventus l'ultima 2-0 lo scorso anno con gol di Conte e Ferrara curiosamente due giocatori assenti oggi Ferrara lo ricordo per squalifica Del Piero subito attaccato da Conte viene raddoppiato Francesco spinge il principino il fallo è su Valtolina poi anche gesto di stizza per il ritrovato del Piero perché di lui si è parlato molto per quanto riguarda il rinnovo del contratto in acquato intanto Luiso ha trovato Tacchinardi Dimash è intuito l'intenzione della Juve Mirko Conte Tramezzani vince il ripallo con Porreni si inserisce Tramezzani si è allargato Scienza è il cross avviene però quando il pallone già varcato la linea bianca primo piano di Jugovic il pallone già rimesso dalla Juventus Beppe Scienza per un attimo l'abbiamo visto rientra anche lui dopo l'assenza di Domenica Vieri di Livio con Boxic vai uno contro uno con delle carri poi rientra a partire il cross Vieri il presso di lui provato ad allentare la pressione del Piacenza ma subito la Juve si ripropone con Del Piero ora gira palla al centro campo Vieri cerca spazio sinistro secco il suo Alan Boxic colto nell'azione precedente questo è il primo piano invece di Vieri autore del tiro 23 anni stagione da sogno per lui la nazionale gol in azzurro soprattutto un percorso da protagonista in una Juventus di vertice in Italia ma anche e soprattutto in Europa Giuliano posizione da centrale per lui insieme a Tachinardi copia inedita come ricordavano i giornali i due hanno giocato insieme solo in questa posizione qualche minuto una partita qui al delle Alpi contro il Verona scuso Boxic da Mirko Conte Valotti perde palla anche lui il Piacenza la riconquista scontro duro ma regolare secondo l'Albi e poi fuori gioco inutile questa conclusione di Vieri si era alzata già la bandierina del collaboratore del signor Cesari 6 minuti e mezzo sul cronometro 0-0 ancora tra Juventus e Piacenza Jugovic in profondità trova Vieri che però è già oltre la linea dei difensori della squadra di Mutti butta via ancora il pallone il Piacenza Torrini con le mani Vieri cerca spazio Boxic partecipato da Taibi Lucci la vita del Piero non arriva il pallone destinato a Baltolina l'intervento di Dimash da una parte opposta la Juventus di Livio va incontro gioca di Spondavieri ancora di Livio imbeccato da Deschamps parte il cross in area a seguire per l'inserimento di Del Piero mentre il tabellone luminoso qui dello stadio ha riportato il vantaggio del Parma ammutolendo completamente i tifosi della Juventus Deschamps era spezzata la trama per Del Piero prova la triangolazione il Piacenza non riesce ma recupera palla ancora la squadra di Mutti Scienza Valtolina Dimash poi Juliano spaccato proprio da Valtolina più largo c'è Luiso Dimash gioco invece indietro ancora per Juliano che taglia il campo quindi parte ancora dalla fascia destra la Juventus Poxic chiude di prima Deschamps in profondità Vieri è il pallone uscito e la rimessa è del Piacenza sta presidiando molto bene la fascia sinistra Tramezzani giocatore d'esperienza qualcuno ricorderà un anno anche con la maglia dell'Inter Valtolina molto attivo qui in lotta con Jugovic che lo chiude l'auto è della Juventus le mani del Piero e si riparte da Takinerdi Porrini Porrini Deschamps c'è un barco sulla sinistra allora ecco Dimash va in sovrapposizione dopo aver lasciato a Del Piero chiude però il triangolo lungo intervento di Di Francesco ecco qui di Francesco evita in bello stile un paio di giocatori bianconeri poi però il suo suggerimento finisce direttamente in out ci stiamo avvicinando al decimo nel primo tempo al delle Alpi è sempre 0 a 0 tra Juventus e Piacenza ancora un lancio che torna a Jugovic normalmente fallo laterale Dimash con le mani sino a questo momento la Juventus sta giocando cercando di sfruttare al meglio la sponda dei due uomini più avanzati cioè Pocsic e Bieri tentando di favorire o un lancio immediato o l'inserimento di un centrocampista entrambe le cose però sino a questo momento non hanno messo in difficoltà o un Piacenza ottimamente messo in campo scienza Tra Mezzani chiede il De vai lo tiene voleva il lancio torna in possesso del pallone sponda di Luiso fuori gioco segnalato l'arbitro facendo di aver visto ma si può proseguire buon lavoro di Bocsic sinistra per Del Piero poi va a sistemarsi in avanti a sinistra anche Jugovic tiene palla il principino poi si appoggia a Dilivio per cercare Del Piero e Juventus che guadagna la rimessa laterale già effettuata da Dilivio Del Piero altro out sempre in zona d'attacco per i bianconeri solito scambio di Ligio Del Piero non riesce l'arbitro vede una spinta però di Di Francesco che si sta occupando stabilmente di Del Piero lo ha seguito anche dalla parte opposta qui vediamo il contatto l'arbitro che era comunque un po' distante però ha avuto dubbi sarà Del Piero citato la gran voce dal pubblico a battere due uomini in barriera per Taibi parte il cross lungo sul secondo palo c'è la torre prova Jugovic destro al volo un pallone altissimo buon tiratore Jugovic anche per lui inevitabili indiscrezioni di mercato e che la sua sembra sentire i soliti ben informati una trattativa abbastanza avanzata con la Lazio che viene fondamentale quest'anno per Barcello Lippi Jugovic c'è da valutare però anche l'importanza del recupero Capitan Conte fino a questo momento parziale ma naturalmente a partire dal prossimo anno sarà completo un Conte sempre indicato da Lippi come uomo importante per bilanciare il i reparti non a caso ha spesso ricordato il tecnico di aver cambiato completamente schemi abbandonando il tridente proprio dopo l'infortunio di Conte il corso di Nazionale ancora Del Piero prova a saltare l'uomo e Lucci questa volta cross di Livio troppo alto anche per Vieri arriva Dimash Deschamps pronto il cross effettuato dal portoghese pallone che filtra è quasi sorpreso Del Piero il pallone è riuscito a filtrare l'arbitro indica tra le proteste dei giocatori della Piacenza un calcio d'angolo e ha ragione perché l'ultimo a toccare probabilmente è stato Dellicarri dalla bandierina del Piero infatti è corto questa volta Moretti di Francesco ancora Moretti l'anticipo di Tacchinardi altro fallo travisato da Cesari entrata su Del Piero punizione della battuta di Livio Porrini sbaglia l'appoggio lontana Tramezzani un pallone al limite Del Piero sul destro cross anche deviato era una buona opportunità il pallone ha preso una strana traiettoria perché il cross di Del Piero è stato contenuto l'impatto con l'avversario ha rallentato il pallone stava per intervenire Vieri insiste la Juve altro cross basso questa volta e sarà calcio d'angolo un po' le corde adesso il Piacenza pungolata dai risultati dagli altri campi la Juventus si sta gettando all'assalto della porta di Taibi che fino a questo momento però non ha dovuto compiere nessun intervento di rilievo i minuti sono 15 e il punteggio sempre di 0 a 0 sono ben 6 i giocatori della Juve nell'area avversaria Caibi con i pugni e c'è la traversa scheggiata da Deschamps che ha visto benissimo avanzato il portiere del Piacenza vedete il controllo tocco sotto di stampo sudamericano al pallone che pizzica la parte superiore della traversa fa tremare i legni della porta di Taibi adesso può andare a rinvio è corto però attenzione a Del Piero l'uomo più avanzato è Vieri arriva anche Boxic solo rimessa laterale però per la Juve interviene ancora Cesari questa volta sembra che il calcio di punizione sia per il Piacenza anzi no soltanto rimessa la squadra di Mutti molto aggressiva però anche in fase di contenimento la Juventus Luiso non riesce la sua sponda in anticipo Delicarri è andato a chiudere su Boxic cercando di organizzare il gioco da dietro Tachinardi grandi gesti per i compagni del Piero troppo lungo questo suo suggerimento imprendibile per Dimash sta rientrando Marquez Tescheira Manuel Dimash è arrivato stagione iniziata dal Benfica prima esperienza accademica Coimbra Estreia Madora Vittoria Ghimaraes tre anni nel Benfica uno vissuto solo a metà cioè quello in corso e questa è la sua quattordicesima partita nel campionato italiano Lucci a buona guardia confida ancora al rivio di Taibi di Livio il solito Deschamps va in slalom lo aiuta Jugovic lo aiuta anche di Francesco Vieri ci chiamo ancora Dimash ecco il cross troppo lungo anche per Boxic Delicari mette fuori prova ad arpionare il pallone Valtolina Luiso Moretti Luiso scienza nel suo inserimento e Conte ancora all'indietro per Taibi Djokovic non riesce a prolungare Vieri c'è l'arga per Di Francesco Luiso quello di un altro splendido gol seconda gemma fuori gioco di Valtolina seconda gemma stagionale con l'Atalanta anche per importanza dopo quella meravigliosa cartolina che ha fatto il giro del mondo cioè il gol contro il Milan ha regalato una vittoria storica al Piacenza ha inguaiato Tabarez però al tempo stesso è stato l'inizio di un periodo negativo poi per lo stesso Luiso e per tutto il Piacenza di Capitan Lucci scuola Roma un'esimo rinvio di Taibi compito duro questa sera per Luiso deve vedersela quasi da solo contro tutta la difesa della Juve fermato Boxic Moretti lascia lì per Tramezzani Di Livio attaccato proprio da Tramezzani resiste colpo di tacco Porrini va al lancio preziosismo anche a Vieri la collaborazione di Di Livio poi cambia tutto Deschamps non aggancia però nonostante il tentativo in acrobazia del Piero Reduce lo ricordo dallo strappo al flessore della coscia destra molta prudenza per il suo recupero molta saggezza per la Juventus Lippi non ha voluto accelerare i tempi della ripresa agonistica del Piero l'uomo ha detto troppo importante per rischiare di perderlo ancora ma soprattutto posso permettermi ha detto qualche settimana fa di aspettare ancora un po' prima di rilanciare del Piero che è a mia disposizione nonostante molti infortuni qui bisogna ricordare anche quelli di Padovano di Torricelli di Pessotto oggi si è aggiunto anche Montero per il problema della Caviglia e c'è comunque una rosa di primissimo livello che lui però ha saputo gestire in maniera migliore impiegando poi giocatori anche in ruoli diversi e tenendo poi sempre il massimo Tramezzani sul pallone accanto a lui Moretti il cross è di Tramezzani nel mucchio sarà calcio ad angolo guardia attenta quella sul Toro Pasquale Luiso primo corner anche per il Piacenza come si ricorda la nostra grafica sono quasi 22 nel primo tempo sempre il risultato di 0 a 0 spazio Valtolina ed è un brivido per Peruzzi si pensa ad un cross invece è un sinistro tagliato era comunque sulla traiettoria del capitano Bianconero buona iniziativa Piacenza che dimostra con i fatti quelle che erano state le dichiarazioni di Mutti sino al pomeriggio cioè di una squadra rispettosa sì molto attenta tatticamente pronta ad ottenere il massimo da questa partita Piacenza che da qui alla fine del campionato vedrà le sue speranze salvezza misurarsi oggi qui a Torino con la Juventus poi la sfida in cui come hanno indicato anche il tecnico i dirigenti i stessi giocatori del Piacenza con il Cagliari si deciderà tutto domenica prossima il Piacenza avrà il vantaggio del campo ultime due partite poi a Udine e in casa con il Perugia e con il Piacenza che gestisce palla lo fa con Moretti gran rilancio di Lucci apertura decisa Tramezzani cross volante Cacchinardi allontanato Vieri pedinato da Mirko Conte lascia Jugovic immediata pennellata per Del Piero grande controllo Del Piero in aria va giù ed è rimessa dal fondo neanche calcio d'angolo impressione che Del Piero abbia un po' cercato il contatto con Di Francesco qui ci sono molti giocatori purtroppo che ci impallano l'evoluzione del replay vediamo quest'altro allarga in effetti un po' il braccio di Francesco ha l'impressione che probabilmente abbia avuto ragione l'arbitro Mischia centrocampo Jugovic allarga oltre qui le condizioni climatiche stanno peggiorando a Torino si è alzato un vento che sta portando nuvole nere cariche di pioggia non è escluso che tra qualche istante potrebbe iniziare anche a piovere alterando naturalmente quelle che sono poi le condizioni agonistiche pratiche del terreno di gioco ancora sballato il rinvio di Taibi sotto pressione Imash gioco 2 ancora con Del Piero vede l'inserimento di Jugovic fermato con molta calma con l'ingresso dell'area di rigore Valotti poi Moretti dire a seguire Valtolina Luiso ha toccato il pallone sul tentativo di rinvio di Iuliano carambolata però nella zona di Peruzzi e Juventus che già riparte con Deschamps meno di 20 minuti alla fine del primo tempo tutto sempre di 0-0 con Juventus che gestisce la gara colpito anche una traversa con Deschamps in quel momento sembra faticare trovare i ritmi giusti soprattutto gli schemi per liberare gli uomini in avanti con una piacenza molto accorto dietro di Livio solito duello con Trabezzani si accentra con un pallone a seguire Luci spazza poi l'attivissimo Valtolina muove tantissimo calma attacchi Nardi Iuliano cresce anche l'incitamento del pubblico sale Porrini si propone in avanti ma la Juventus perde palla per l'anticipo di Dele Carri sponda di Luiso lancio di Moretti lo scatto di Valtolina va in chiusura decisa Iuliano il pallone resta lì perché va a carambolare sulla bandierina ed è giocabile per la Juventus la decisione di Iuliano che di spalla tocca anche Valtolina anche in questo caso l'arbitro Ciccolino giustamente ha lasciato proseguire Dimash Del Piero però anche lui è da centrarsi il cross che attraversa tutto lo specchio della porta di Taibi nell'area piccola ma in ritardo questa volta nel puntamento col pallone Vieri ha seguito lo spunto di Boxic Di Francesco d'esterno Luiso davanti per Di Francesco questa volta è lui a liberarsi in posizione offensiva in area Luiso arriva a rimorchio anche Valtolina il cross è lungo ci può avere di Porrini e di Livio l'arbitro sanziona la spinta di Vieri ai danni di Mirko Conte non molto convinto Vieri adesso a colloquio anche con con Lippi che sembra aver dato delle varianti tattiche ai suoi giocatori del reparto offensivo il lancio del Piero è al centro Boxic manca la conclusione di sinistro non è finita però lui che recupera c'è un corpo a corpo è un calcio di punizione assegnato per il fallo di Balocchi alla Juventus grande gladiatore Didier Deschamps caparbiamente a recuperare il pallone la prima volta la difesa del Piacenza si è fatta trovare leggermente aperta pubblico in bocca del Piero c'è anche Jugovic sul pallone maniera nutrita predisposta da Taibi è una zona che potrebbe essere favorevole alle doti balistiche di entrambi del Piero l'incaricato è lui che prova il pallone con Taibi immobile esce alla destra del portiere ha pattezzato fuori il pallone Max Taibi è uscito di pochissimo che rischio che ha corso Taibi 12 presenze nazionali ci ricorda la nostra grafica per il principino del Piero che esordì contro l'Estonia Tacchinardi ha anticipato Luiso Vieni ancora lui a giocare di sponda Jugovic del Piero del Piero sono seduti in avanti anche Deschamps ma il pallone non filtra con un ottimo anticipo questa volta di Di Francesco molto attenti molto concentrati i giocatori del Piacenza stanno giocando con straordinario ordine tattico ed è esattamente quello che Mutti ha proclamato alla vigilia fallo questa volta su Di Livio ha commesso Tramezzani si è aiutato anche con le mani scocca in questo istante alla mezz'ora del primo tempo la Juve non riesce ancora a sbloccare il risultato porta palla Boxic Di Livio si allarga Boxic è lui che riceve il pallo lo sfavorisce però è lui l'ultimo a toccare ha ragione il guardalene non è convinto Alain Boxic ha rimesso Tramezzani scambiato con delle carri suo poi in lancio Luiso va ad incontrarlo Scienza Moretti verso Luiso con un fallo con un fallo ha commesso Tacchinardi che alza la gamba era stato saltato da Luiso e Tacchinardi è uno di quei giocatori che deve fare attenzione perché è un elenco dei difidati due uomini in barriera per Peruzzi ce ne sono quattro in area invece del Piacenza sarà probabilmente ancora Tramezzani a battere e così è lui a scodellare al centro attende lì sulla linea di Porto il pallone Peruzzi senza problemi lo raccoglie ha provato Scienza altro buon tiratore botta al volo di Leggero con lo esterno destro per l'ex giocatore del Torino oltre che del Venezia naturalmente questa sera la sua ex anima Granata tra l'altro lui tifoso Granata ha dichiarato una spinta in più per il bravo centrocampista di Monti Dimash Jugovic fa incontro e poi si allarga del Piero Deschamps indietreggia adesso la Juventus sul pressing accennato dal Piacenza Deschamps Dimash del Piero non si chiude il triangolo recuperato fa la Juventus dopo il gol del Piero serie di finte gira il pallone però esce oltre la linea bianca applausi per l'impegno di Alex del Piero vuol dimostrare di aver recuperato la condizione ottimale in vista degli appuntamenti importanti ecco ben prescienza figlio d'arte suo papà ha giocato anche se a livelli più bassi con il con il Novara lui proprio con la maglia Granata però della primavera vinse un torneo viareggio ed anche un titolo assoluto Giuliano sotto pressione sbaglia ad impostare del Piero dopo il topo di Jugovic gli sradica il pallone di Francesco che poi riparte l'alum chiuso subito da Dimash del Piero paccato da dietro guadagna la rimessa laterale 33 minuti e mezzo il primo tempo sempre 0-0 tra Juventus e Piacenza adesso è Balotti che si sta occupando di Del Piero attenzione a Jugovic vuole triangolo non riesce a chiuderlo Bocic mentre intanto ci sono fulmini sul cielo delle Alpi un po' meno in campo gioia dei tifosi delle Piacenza l'annuncio del pareggio della Fiorentina a Cagliari naturalmente poi questa sfida come vi dicevo si svolge anche con un orecchio attento alla Radiolene per capire che cosa accade soprattutto a Parma e a Cagliari l'urlo resteremo in serie A da parte dei tifosi del Piacenza quasi un migliaio giunti sino qui a Torino il recupero di Luiso Tramezzani Moretti una finta evita di Lidio lascia correre il pallone Valtolina è scattato però Tramezzani perde l'opportunità il Piacenza Deschamps suo questa volta in lancio Poxic accenna una delle sue azioni travolgenti è lungo però il suo rilancio contro cross che termina direttamente sul fondo è stata però forse una deviazione perché l'arbitro e i guardalini indicano il calcio d'angolo così è sul insistito dribbling di Vieri anche lui in grandi condizioni fisiche delusione ora per il gol di Dario Silva complica ancora la situazione del Piacenza deve anche guardarsi da questo corner della Juve Deschamps al limite cerca spazio poi allarga ecco il cross nel bucchio traversa ancora la seconda colta dalla Juventus colpo di testa di Juliano pallone che si è stampato netto sulla trasversale non ci arriva Vieri immobile ancora una volta Taibi buono lo stacco gira il pallone Juliano non è fortunato battuto il corner ce ne sarà probabilmente un altro lo reclamavano i giocatori della Juventus non lo concede però Cesari meno di dieci minuti adesso alla fine del primo tempo sempre 0-0 anche un po' di sfortuna per la Juventus che preme sì lo fa con determinazione lo fa con convinzione non è però la Juventus brillante che eravamo soliti vedere nelle prime apparizioni di questo campionato i primi tre quarti della stagione almeno questa sera sembra avvertire il peso degli impegni importanti il peso delle assenze naturalmente e anche l'ottima predisposizione di un buon Piacenza che sta recitando il suo ruolo intanto continuano gli sguardi preoccupati al tabellone luminoso dei tifosi ma a questo punto anche della panchina della Piacenza per le notizie che arrivano dal Sant'Elia Valotti Delicarri pervento deciso anche sospetto il danno di Di Francesco che resta a terra Valotti dovrebbe mettere il pallone in pallo laterale perché c'è un uomo del Piacenza a terra e infatti alla fine Moretti che si decide cerca il pallone Dimash ma comette fallo su Di Francesco l'intenzione era un intervento in anticipo in scivolata però ha nettamente colpito l'uomo adesso Di Francesco sta chiedendo anche al guardalene mentre il gioco riprende lui non sembra al 100% della condizione ancora in piedi ma piegato in due si riparte comunque riprende ora il suo posto Di Francesco altro uomo mercato lui sembra che si sia già accordato con la Roma Dimash va in verticale restituisce il pallone Vieri di Livio cerca spazio per il suo sinistro non guadagna metri la Juventus non trova neanche molte opportunità per il tiro Deschamps ricostruisce pazientemente per Dimash del Piero pedinato sempre da Di Francesco va in raddoppio anche Valtolina Dimash suggerisce il triangolo lo ottiene immediato il cross torre per Vieri Jugovic si gira c'era però Lucci a chiuderlo molto affollata l'area di Taibi per il momento la Juventus non ha trovato la chiave per scardinarla ora si propone Giuliano con grande autorità e guadagna calcio d'angolo molto bravo Marchiuliano grande stagione forse in attesa a questi livelli ma ha meritato tutte le presenze che ha ottenuto a tutti i livelli Deschamps ancora una manovra esterna per la Juventus il cross basso alla fine non lontana Moritti prova a scattare e lo fa Travenzani c'è superiorità numerica per il Piacenza si apre un barco tu per tu con Peruzzi ancora un miracolo di Tyson Peruzzi quando la difesa della Juventus si era completamente aperta si è disinteressata dell'uomo che portava il pallone e c'è voluto l'ennesimo miracolo di un grande portiere come Peruzzi dalla parte opposta Delicarri ad anticipare Bocic poi Travenzani butta un pallone a seguire che ancora una volta Peruzzi controlla si guarda intorno ha spazio per il sinistro lo prova è eretto però il solito muro Peruzzi molto bravo ma questa volta la Juventus ha rischiato grosso c'era sì superiorità numerica per il Piacenza nessuno è andato sul portatore di palla hanno aperto un barco tra l'altro centrale non era troppo periferica la posizione di Travenzani è andata bene alla Juve un applauso anche a Onne Piacenza che come vi dicevo è ben messo in campo contiene bene ma non sta certo a guardare non sta facendo barricate al Dele Alpi sta giocando la sua partita con molto ordine Moretti ha giocato Scienza perde palla perde palla ancora la Juventus allora avanza Di Francesco valto linee davanti c'è Luiso ma anche la bandierina della guardalene inutile questa conclusione questa rete mentre Luiso indica simpaticamente il guardalene che eravamo lì e invece mi sembrava che la posizione di fuorigioco fosse abbastanza netta mentre dall'immagine di prima avete visto che comincia a piovere con decisione era facile preventivarlo ho visto lo scenario che si stava proponendo proprio sopra il Dele Alpi giornata di sole splendida ma in pochi secondi sono arrivate delle nuvole cariche adesso stanno lasciando il segno sulle Dele Alpi altro uomo a terra e nuovamente il Tiacenza mette il tallone in faro laterale per permettere i soccorsi a Valtolina Fabian Valtolina che sta giocando un'ottima partita si muove da una parte all'altra del campo spallata di Jugovic un bodice che è quasi okistico ed eccolo il diluvio su Torino è rialzato intanto Valtolina scuola Milan che è venuto dalla primavera dei rossoneri poi ha conquistato la Serie A con una promozione con la maglia del Bologna in rinviu di Taibi siamo entrati già negli ultimi due minuti del primo tempo sempre 0-0 tra Juventus che ha colpito due volte la traversa di Taibi e Piacenza hanno avuto un'occasione straordinaria con Travezani Del Piero Djokovic Djokovic schierato in avanti adesso con Del Piero a sinistra Boxic centrale Vieri sulla destra lancio di Djokovic è proprio Vieri che andava in diagonale terminato in posizione ha terminato in posizione irregolare fatica molto questa sera la Juventus partita tatticamente psicologicamente difficile siamo già entrati nell'ultimo minuto il protege di 0-0 la Juventus ha fatto obiettivamente qualcosa di più in questo primo tempo ha avuto più opportunità ha tenuto maggiormente il possesso palla ha cercato di più il gioco offensivo un plauso anche al Piacenza il risultato di parità la squadra di Mutti lo sta meritando con un buona disposizione in campo mentre adesso è proprio un diluvio quello su Torino quando il Piacenza ha guadagnato ancora un calcio di punizione lo batte Lucci sbaglia l'apertura di Lidio un minuto di recupero facendo il quarto uomo poi tutti a ripararsi negli spogliatoi anche molti fotografi hanno cercato riparo abbandonando le loro impostazioni un diluvio in questo momento sul delle Alpi questo potrebbe anche facilitare in qualche modo il compito del Piacenza che delle due squadre è quella sicuramente meno tecnica e quella che ha più vantaggio che il campo si appesantisca come accade poi sempre tutte le squadre che non devono difendersi fuori in avanti però il Piacenza nell'area piccola Peruzzi raccoglie principando l'inzo ancora molto bravo Fabian Valtolina Deschamps potrebbe essere anzi dovrebbe essere l'ultima azione del primo tempo che Boxic ha postato al centro anticipato Vieri riesce però a toccare per Del Piero Jugovic è blocco l'azione offensiva della Juventus Cesari indica chiaramente il cronometro perché protestate facendo ai giocatori della Juventus si era detto un minuto di recupero esattamente un minuto dopo il 45esimo Cesari manda le squadre negli spogliatoi ritornano i due team sullo 0-0 un risultato che va stretto alla Juventus ha provato di più la via del gol ha colto la squadra di Lippi due volte la traversa di un Taibi che peraltro non ha poi dovuto compiere nessun intervento miracoloso cosa che invece ha dovuto fare Peruzzi dalla parte opposta per fermare un contropiede in superiorità numerica di un Piacenza ripeto ben messo in campo non sta soffrendo poi più di tanto nonostante la decisione di schierare il tridente da parte di Lippi è un tridente che fatica a trovare i rapporti le geometrie giuste e chissà che poi Lippi adesso non decida di cambiare nuovamente le carde per il secondo tempo è una Juventus che sta faticando molto buona volontà certo pesa anche il risultato che arriva da Parma vedremo la Juventus che cosa riuscirà ad organizzare per il secondo tempo per il momento le squadre negli spogliatoi sullo 0-0 piccolo time out per noi torneremo naturalmente tra pochissimo a delle Alpi amici di Telecalcio bentornati in diretta da Torino qui vedete intanto uno striscione polemico da parte dei tifosi che avevano annunciato comunque una sorta di sì polemica con la società vedete con Giraudo e Moggi in trasferta va solo Cassoggi questo riferito alla difficoltà di reperire biglietti per la finale di Coppa dei Campioni di Monaco contro il Borussia Dortmund alla scelta della società di affidarsi ad un'agenzia di viaggi una scelta che però la società ha fatto non tanto per ragioni economiche quanto invece per ragioni pratiche per evitare poi i problemi questo perché è giusto che si sappia che anche l'UEFA richiede una sorta di schedatura da parte di tutti i tifosi che vanno a affrontare questo viaggio per la finale e il metodo migliore era secondo la Juventus poi affidarsi ad un'agenzia problemi anche per il caro biglietti proprio in vista della partita di domenica ma problemi in campo qui contro il Piacenza ancora tutto fermo sullo 0-0 le occasioni ci sono state da una parte dall'altra non molte peraltro in una partita non certo spettacolare qui vediamo anche i tifosi del Piacenza contenti del rendimento della squadra contenti del risultato un po' meno dalle notizie che arrivano dagli altri campi perché il Cagliari sta vincendo lo ricordo per 3-1 e perché e questo discorso si potrebbe fare poi anche per la Juventus il Parma sta vincendo con il Milan per 1-0 questo almeno il risultato che sta dando il tabellone luminoso qui delle Alpi pensierosi dirigenti della Juventus noi potremmo rivedere poi appena la regia è pronta anche le azioni principali di questo primo tempo le occasioni che comunque ci sono state nei primi 45 minuti caratterizzati anche da un tempo diventato sempre più inclemente il colpo di testa di Giuliano che va a stamparsi sulla traversa cross era di Jugovic Taibbi era immobile ovviamente battuto questa è la seconda traversa della Juventus in ordine temporale prima c'era stata un altro legno colto dalla Juve qui vediamo l'avanzata di Tramezzani non lo affronta nessuno tutti stringono verso il centro allora lui va in aria a tempo di mirare carica il sinistro ma ancora una volta Tyson Peruzzi si oppone Roberto Agnelli che tra l'altro si è espresso proprio in settimana proprio ieri non soltanto per quanto concerne il festeggiamento del centenario in casa Juventus si sta preparando intanto Zinedine Zidane un Roberto Agnelli che ha parlato anche dello stadio indicando come un problema risolto al 90% quello della permanenza della Juventus a Torino certo il Delle Alpi non è uno stadio calcistico non è uno stadio bello non è uno stadio amato è uno stadio però in cui la squadra dell'inquadrato Marcello Lippi ha ottenuto continua ad ottenere tanti trionfi certo la Juventus vuole avere un scenario degno più consono per il calcio rispetto a questo e Delle Alpi vuole uno stadio che sia più bianconero in questo senso più agibile per i tifosi anche più vicino la città insomma problemi che sembrano sulla via della risoluzione intanto sembra arrivato anche il momento di Nick Amoruso vedremo al posto di chi l'andamento dei primi 45 minuti di gioco in qualche modo consigliava un rimescolamento delle carte proprio nel reparto avanzato per la Juventus un tridente nonostante l'impegno di Vieri e soprattutto di un dinamico del Piero non aveva convinto molto adesso entra anche anche Zidane quindi probabilmente si torna all'antico non vedo per il momento del Piero non c'è neanche Boxic si torna allo schieramento classico della Juventus quindi con Vieri Amoruso davanti di punta di Livio largo sulla destra Zidane nella linea dei quattro centrocampisti che quindi va a ricomporsi da destra verso sinistra Zidane Deschamps di Livio Deschamps Zidane e Jugovic che dovrebbe riportarsi largo sulla fascia sinistra sarà la Juventus a toccare il primo pallone di questo secondo tempo si riparte dallo 0 a 0 ha cambiato tutto ha cambiato molto Marcello Lippi in questa ripresa che va ad incominciare piove ma un po' meno adesso su Torino due cambi quindi per la Juventus fuori Boxic e del Piero dentro Zidane e Amoruso non mi sembra di rilevare invece nessun avvicendamento in casa Piacenza ma vediamo ancora qualche istante in campo Juventus che si proietta subito in avanti è una trattenuta e la punizione è in favore della Piacenza il pallo di Zinedine Zidane ottima stagione anche per Zizou tanto buona che se la Juventus dovesse decidere ma le affermazioni da parte dei dirigenti in questo senso sembrano assolutamente il contrario di rispondere negativamente a una sorta di ultimatum che è stato dato dal manager dal procuratore di Del Piero cioè Pasqualene di rifirmare subito un rinnovo del contratto entro fine mese o mai più un contratto che però ha ragione poi la Juventus a sottolinearlo Del Piero ha siglato a tutto il 2000 e se c'è non accadrà la Juventus potrebbe anche decidere di cedere in Inghilterra Del Piero ampie assicurazioni contrarie in questo senso ma ciò dovesse accadere proprio anche per colpa detto ovviamente tra virgolette del grande campionato di Zidane Juventus in avanti Amoruso cerca spazio prova c'è la deviazione e sarà calcio d'angolo si presenta subito in area Necchia Dinamite allarga il suo sinistro colpisce scivolando c'è la deviazione ed è calcio d'angolo ancora una volta è sembrato un po' fermo Taibi disturbato anche dalla deviazione di un suo compagno rivelatasi peraltro provvidenziale ha deviato il pallone in corner primo di questa ripresa in favore della Juve ma tutto nel mucchio un brivido per Taibi il pallone ha attraversato tutto lo specchio della porta si è gettato a balanga Giuliano che adesso è aiutato da tramezzare e rialzarsi Jugovic dalla bandierina arrivano tutti in ritardo lascia passare il pallone Amoruso probabilmente ha chiamato l'intervento Giuliano che però non è riuscito nel tap in Giuliano arrivato dalla Salernitana e ha dimostrato di non avvertire assolutamente il cambio ed è stato un cambio notevole per lui di categoria Dimash in avanti Vieri controlla prolunga Jugovic che filtra appoggia ancora verso Vieri spazza Scienza la sua area di rigore si è lamentato di Francesco per la maniera in cui Jugovic ha sgusciato via facendo appello a tutto il suo mestiere proprio di Francesco tocca il cross di Dimash Zidane allarga per Di Livio Taibi di pugno allontana Di Livio ripropone Lucci allontana sempre su Di Livio però aumenta la pressione la Juve fa partire il cross colpo di testa di Delicarri riesce solo ad allontanare e nulla più il Piacenza Giuliano ributa nel mucchio Zidane si allarga Zidane cerca spazio per un cross però sul secondo palo e adesso fa paura la Juventus con l'ingresso di Zidane e di Amoruso proprio su questo asse l'ultima opportunità che stiamo rivedendo è stato anticipato da Delicarri appostato sul secondo palo Amoruso altro corner secondo della ripresa per i bianconeri Valtolina non riesce ad allontanare Jugovic gli chiudono la porta in faccia per il tiro i giocatori del Piacenza che poi ripartono ancora una volta superiorità numerica di Francesco porta palla lo recupera Dimash ed è ottimo l'intervento del portoghese tutti gli applausi dei tifosi bianconeri in questo momento sono per lui Deschamps prende vita adesso la gara Jugovic scambiano posizione Amoruso e Bieri spazio per Jugovic in area si allarga troppo però Zidane appoggia Deschamps destro Taibi di pugno allontana c'è però un fuorigioco segnalato dal guarderini rilevato dall'arbitro 4 minuti e mezzo nel secondo tempo partita totalmente differente d'altronde l'obbligo arriva dal tabellone luminoso che sta portando le notizie da una parte e dall'altra però sia da Cagliari che da Parma non è sfuggito all'occhio della nostra attenta regia l'intervento di Dimash in bello stile soprattutto con grande tempismo preme la Juve con le mani Jugovic va incontro Zidane Dimash attaccato Deschamps riallarga ora attacchi Nardi Pieri pallone in profondità Jugovic elude Taibie del gol passa in vantaggio è Zidane l'autore del gol passa in vantaggio la Juventus al quinto minuto e mezzo del secondo tempo Zinedine Zidane mette il suo marchio anche su questa partita si stavano complicando le cose per la Juventus lancio per Zidane si inserisce benissimo evita Taibie finta che manda a sedere il portiere lancio di Deschamps grande controllo di Zidane splendida la finta in corsa pallone calamitato al piede dà un'occhiata anche al guardaline la sua posizione è regolare la Juventus va in vantaggio quinto minuto e mezzo della ripresa Zinedine Zidane appena entrato e si è visto subito che i cambi voluti da Lippi allenatore che ha uno splendido controllo della sua squadra una visione molto attenta della gara inserimenti di Amoruso e Zidane hanno improvvisamente cambiato la partita senza nulla togliere poi la partita di Boxic e soprattutto del Piero nel primo tempo illuminante il passaggio di Deschamps grande lottatore ma poi giocatore che quando viene chiamato a giocare di fino riesce sempre ad offrire la giocata giusta e il pallone importante così come è stato per il colazionale Zidane per Zidane il quinto gol in campionato il primo qui al delle Alpi contro l'Inter ha sbloccato la sua stagione questo è un gol questo qui alla Piacenza che vale tanto oro quanto pesa fuori gioco in posizione irregolare di Pasquale Luizzo lui si è battuto nel primo tempo molto solo si scaldano i tifosi della Juve sugli spalti mentre la Pioggia continua a battere con intensità non ha potuto far nulla bravo Max Taibi anche senza considerare le sue prodezze sui calci di rigore è stata l'ennesima stagione positiva l'ultima con la maglia del Piacenza prima di quello che ormai è un passaggio certo al Milan delle carri ora reattiva la Juventus con Demas e lui a toccare la rimessa allora sarà dal fondo per presidiare naturalmente la fascia sinistra l'attacco della Juve di Francesco che nel primo tempo si era occupato stabilmente di Del Piero Taibi scambia con Lucci Conte rischia e finisce il Piacenza col perdere il possesso del pallone di Ligio lo allarga per Porrini Pallone a seguire Vieri il controllo ed è il gol Cristian Vieri ancora lui a segno immobile Taibi traiettoria beffarda quella di Vieri buono il controllo maligno la traiettoria lancio di Porrini questa volta è abbastanza solo perché manca l'intervento Conte Vieri batte al volo prende il pallone d'esterno destro quella spera assume una traiettoria decisamente imprevedibile sicuramente imprendibile per Max Taibi ed è il raddoppio forse il sigillo su questa partita da parte della Juventus quando non siamo ancora giunti al decimo minuto nel secondo tempo Zidane Vieri 1-2 terribile da K.O. per il Piacenza vedete che svirgola il pallone Vieri però la mette dove non può arrivare soprattutto dove non si attende che possa andare a finire il pallone Taibi ed è il 2-0 per la Juventus adesso Giuliano ha anticipato Luiso altro cross sempre per Luiso palla in area Valtolina ed è il gol di Luiso destro il toro Pasquale Luiso non ha perdonato lui grande opportunista d'area di rigore era andato lui a saltare di testa sul cross di Tramezzani si è intromesso nell'azione Valtolina tenuto vivo il pallone un po' distratta la difesa della Juventus Valtolina che tocca disorienta un paio di giocatori della Juve di potenza e anche di precisione Luiso questa volta taglia fuori Peruzzi riapre la partita molte emozioni in questo secondo tempo e siamo 2-1 per la Juventus che va in avanti viene fermato però a Muruso allontana Taibi proprio sui piedi di Zidane Jugovic contratto il suo cross Nellicarre Luiso lascia di Francesco a Valtolina su all'apertura Tacchinardi allontana Zidane lascia lì il pallone per Deschamps evita un avversario non si avvede però del recupero di Di Francesco Valtolina evita Dimash chiude il triangolo prova la grande conclusione Peruzzi di pugno e poi in due tempi fa su il pallone ottimo Piacenza grande personalità della squadra di Mutti non si fida giustamente del pallone viscido Tyson Peruzzi dalla parte opposta pallone scodellato ancora per Vieri controllo di sinistro si allarga troppo però cerca il cross vince il rimpallo Jugovic arriva Dimash ottima la sua partita minuti sono 12 ora nel secondo tempo Juventus 2 Piacenza 1 Dimash si libera per il cross e lo effettua ad esterno sinistro la deviazione di Valotti raccoglie senza problemi da Ibi primo piano per Valotti si è iniziato come ala il suo terreno in Atalanta è stato spostato tornante nel Parma da Arrigo Sacchi poi addirittura poi addirittura ha impostato regista nel Vicenza che allora aveva in panchina Ulivieri Mutti lo ha a disposizione per la seconda volta nel corso della carriera di Valotti i due si erano ritrovati già al 20 godi quando difendevano la maglia del Verone altro fallo mentre intanto le condizioni del campo ovviamente peggiorano guardate la situazione che c'è in questo momento mentre Conte si sta preparando altro inserimento possibile per l'attento Lippi scivola il pallone dal controllo di Di Francesco Dimash per Iuliano evita il pressing di Luiso che ha segnato nell'occasione il suo gol numero 12 in questo campionato Porrini batte lungo con il suo cross c'è stato poi il gol di Vieri che sembrava aver definitivamente archiviato l'incontro invece la Juventus dovrà ancora soffrire contro il Piacenza di questo uomo qui Bortolo Mutti ex attaccante è iniziato nell'89 la sua carriera di tecnico con il Palazzolo poi l'Effe con cui ha conosciuto la promozione in C1 la stagione 91-92 quindi Verona Cosenza Piacenza ovunque è andato sempre fatto molto bene si fa sentire torna a farsi sentire anche il pubblico capisce che questo è un momento decisivo di questa partita fondamentale per il campionato Dimash pressato da Valtolina Desha Cacchinardi Zidane lascia correre il pallone per Jugovic l'affronta di Francesco va in slalom Jugovic sul cross lungo Taibi si salva in calcio d'angolo sul colpo di testa di Nicamoruso ottimo ripresso Taibi stava stringendo verso il primo palo con la mano di richiamo ha messo il pallone in corner vedete che alza sulla trasversale lui stava stringendo verso il il palo lui più vicino dove era postato Amoruso che aveva invece cercato un controtempo altro corner per la Juve battuta a rientrare fuori Dellicarri ci sono solo giocatori della Juventus però nella zona del pallone Porrini altro centro Dimash lo stagliato il suo Giuliano la prima di testa non riesce a coordinarsi poi per girare nuovamente verso il centro dell'area sta correndo tantissimo Marchiuliano pronto alle chiusure ma poi anche a proporsi in avanti sempre in occasione dei calci piazzati pressa la Juventus allora allarga verso destra al raggio del gioco di Piacenza con Di Francesco Baltolina Scienza attaccato Tramezzani in avanti verso Luiso controllato proprio da Juliano che si sta toccando una mano il quarto d'ora adesso sta scoccando anche il sedicesimo della ripresa tutta un'altra partita rispetto al primo tempo Juventus 2 Piacenza 1 gol ed emozioni ma soprattutto un gioco più convinto da parte di entrambe le squadre mentre continua a diluviare su Torino Vieri Zidane si libera della morsa di un paio di avversari Djokovic Zidane si è allargato allora lui provare a rilevarne la posizione al centro in scivolata commette fallo di Francesco batte rapidamente la Juventus la punizione ancora a beneficio di Zidane cerca spazio vanno in raddoppio Deschamps costretto le giocatorie di Piacenza andare verso l'esterno allarga un braccio commette fallo la punizione per la squadra di Mutti buon lavoro Valotti si frappone a Deschamps che con un braccio lo tira giù continua a scaldarsi intanto Antonio Conte continuano a scaldarsi tutti i componenti della panchina della Piacenza ricordo a disposizione ci sono oltre a Marcon secondo quartiere Polonia Lucarelli Pin Cozzi Piovani e Tentoni Porrini Di Lidio gira palla poi la Juventus insiste ancora molto sulla fascia sinistra Jugovic ma Dimash in sovrapposizione ferma tutti di Francesco Lucci con lunga scienza Valtolina prende in velocità Tacchinardi non lo affronta poi addirittura Di Lidio scienza apre di Francesco un pallone che era indirizzato nella sua situazione a Baltolina sono però anticipati Deschamps Zidane subito verso l'area ha ravventato Valotti ancora il piede del Franco Algerino si libera della pressione va al cross impreciso però ancora un ottimo spunto di Zinedine Zidane questa gara la conferma che è un allenatore spesso si dice incida il 5 il 10% il 20% massimo qualcuno sostiene nulla e invece allenatori bravi come Marcello Lippi ce ne sono tanti altri poi nel nostro campionato incidono anche molto in percentuali maggiori come si è visto proprio qui Lippi ha cercato all'inizio della gara una soluzione forse anche ardita di schierare Bocsic Bieri e Del Piero contemporaneamente con una difesa tutta inventata per le assenze di Torricelli di Pessotto di Ferrara di Montero soprattutto attenzione però intanto la Juve ancora in avanti si aiuta forse anche con un braccio il rimorchio di Deschamps che è arrivato da dietro ha provato di piatto destro il francese adesso rientra rapidamente Didier Deschamps che occasione per la Juve Bieri si era aiutato anche con un braccio l'arbitro ha lasciato correre piatto destro di Deschamps ha cercato di piazzare il pallone non c'è riuscito Di Livio altro cross sempre nel mucchio Amoruso il controllo nel traffico ancora Amoruso cerca spazio ha provato il sinistro fuori bersaglio Nic Amoruso prezioso prezioso l'olipico l'olipico ha visto bene che la squadra con minor copertura a centrocampo con una difesa che non ha gli automatismi giusti ancora la Juventus però nell'area piccola va vicino con Amoruso al terzo gol ha deciso di cambiare è tornato subito all'antico dentro Zidane è Amoruso è proprio un Amoruso che qui in scivolata di piatto destro fallisce una buona occasione ma è lui nonostante abbia ancora trovato la soddisfazione del gol in pochi minuti cioè 21 quelli che sono passati dall'inizio del secondo tempo abbiamo avuto il maggior numero di occasioni sia puntate che create anche per i compagni nel reparto offensivo poco corto di scienza di Francesco non accenna a rallentare l'intensità della pioggia altro ottimo controllo di Amoruso ricacciata indietro però la Juventus Dimash Zidane Deschamps Porrini chiamato in avanti da Di Livio alza il pressing il Piacenza cambia lato allora la Juve Dimash seguito da Valtolin inesauribile Djokovic trova lo spunto personale chiede troppo anche a se stesso forse commesso anche fallo di quello si sta lamentando di Francesco prestazione stupenda dell'ex giocatore della Zervena Svesda e della Sampdoria Valotti c'è spazio Tramezzani guadagna la rimessa laterale soprattutto rallenta un po' quella che è la pressione dei bianconeri Peruzzi in presa sta reggendo abbastanza bene il campo quello che sta diventando sempre più un ubifragio ottimo ancora l'anticipo di Amoruso con il secondo sforzo lo rallenta Delicarri il cross per ieri troppo lungo e scivola direttamente in pallo laterale applausi scroscianti del pubblico per una Juventus finalmente bella finalmente reattiva già dimenticata la brutta copia del primo tempo il lancio di Delicarri l'anticipo di Giuliano pallone che resta in possesso del Piacenza c'è una spenta di Valtolena il boato che forse avrete sentito dagli effetti del pubblico il secondo gol subito dal Torino almeno annunciato dal camellone luminoso il secondo gol del Castel di Sangro valore leggermente lungo in due tempi la Juventus la lontana dalla sua area di rigore è molto tramezzani con le mani oltre all'Inter anche Venezia Cesena nel suo passato tra l'altro proprio la sua cessione ha creato qualche problema e più di un problema a Tardelli ai tempi con i tifosi bianconeri stiamo per entrare lo vedete anche dalla sovraimpressione negli ultimi 20 minuti di gioco sempre in vantaggio meritatamente la Juventus per 2 a 1 deve fare attenzione ad un ottimo Piacenza riconquista il pallone e riparte di Libio ora Jugovic solito a coppia in avanti la coppia verde la coppia giovane della Juventus Deschamps di Libio parte dal centro poi si riallarga Deschamps pasticcia questa volta Zidane è pronto a rimediare Bieri Zidane attaccato ottima la triangolazione della Juventus Zidane per Dimash su il cross lungo di un soffio per Amoruso e poi il pallo l'ha commesso Tramezzani su di Libio c'è un cambio intanto esce Valotti forse doppio cambio entra Polonia al posto di Valotti entra però anche Tentoni che è un attaccante vedremo al posto di chi? Di Moretti che è l'uomo che ha faticato un po' di più soprattutto in questo secondo tempo a trovare la posizione anche perché è stato spesso costretto a ripiegare all'indietro escono quindi Valotti e Moretti dentro Polonia che è un difensore e Tentoni che è un attaccante qui l'arbitro fa riprendere il gioco ma in maniera irregolare perché non avevano ancora effettuato la sostituzione i giocatori del Piacenza entra Tentoni e si dovrà ribattere giustamente il calcio di punizione Tentoni che ha vissuto una grande avventura con la maglia della Cremonese quest'anno soltanto un gol invece di quella del Piacenza qui è entrato Valtolina Tentoni a dare una mano in avanti a Luiso Piacenza che deve tentare tutto per tutto per recuperare altro calcio di punizione però per la Juventus e c'è un boato adesso potrebbe aver assegnato il Milan intanto il Piacenza allontana il pallone dalla sua area di rigore il pubblico attende la segnalazione del tabellone luminoso e infatti Demetrio Albertini è andato a pareggiare il gol di Enrico Chiesa Juventus in avanti prova Taibi controlla in presa la conclusione di Bobo Vieri centro di Amoruso controllo elegante sinistro al volo potente di quello che i tifosi della Juventus si augurano non sia il prossimo attaccante dell'Atletico Madrid cambia tutto adesso nel discorso scudetto la Juventus stava pareggiando per 0-0 alla fine del primo tempo con il Parma che vinceva sul Milan tornata in campo trasformata la squadra bianconera adesso è un vantaggio è stato per 2-0 adesso siamo sul 2-1 ma soprattutto il gol di Albertini frena le ambizioni del Parma ma ci sono ancora molti minuti a disposizione per tutti in questo turno infrasettimanale i minuti sono 28 ormai quasi 29 colto di testa di Juliano si fa però rubare il pallone Jugovic deve cercare l'assalto il Piacenza il tutto per tutto Luizzo cercato probabilmente un lancio per Tentoni pallone direttamente però tra le braccia di Peruzzi Taibi che prima è rischiato anche sul tiro di Vieri un tiro difficile a pello d'erba con terreno e pallone molto bagnati ha rischiato con ottimo successo anche la presa c'è affettato la rimessa di Piacenza che però perde il controllo del pallone Amoruso è toccata all'indietro Vieri ora si è spostato su di lui Conte prova a prenderlo in velocità Vieri Conte lo ferma con l'aiuto di Lucci di Francesco Polonia è stato inserito in una posizione per lui abbastanza inusuale molto avanzato rispetto alla difesa sta facendo da Angelo Custode ma cattura rigidamente a uomo su Zidane Giuliano sperata la mezz'ora Conte sempre di 2-1 a favore della Juventus non dimentichiamo anche due volte la traversa nel primo tempo con Deschamps e con Giuliano valore che filtra per Jugovic due uomini al centro parte il cross sta spenta medane di Deschamps che si lamenta ma è già intervenuto Cesari che arriva da dietro e lo sposta Tentoni ma proprio sull'avversario non guarda neanche il pallone 58 presenza in nazionale indica la nostra grafica bisogna aggiungere una decina perché risultano 68 con 4 gol realizzati potrebbe essere probabilmente Jugovic a battere questo calcio di punizione per in corsa lunga la sua si allontana anche di Livio il grandestro ed è il gol il 3 a 1 urla la sua gioia Jugovic può festeggiare con i compagni lunga rincorsa gran botta c'è stata forse anche una deviazione sfiora comunque Taibi con il piede non riesce però a deviare c'è probabilmente una deviazione sul tiro di Jugovic comunque il gol va attribuito a Jugovic lo merita sia per l'esecuzione di questo calcio di punizione che per tutta la partita disputata e adesso la Juventus mette al caldo il risultato che ce n'è veramente bisogno stasera pronto ad entrare anche Antonio Conte Juventus 3 Piacenza 1 onore e merito comunque al Piacenza che sta giocando perché poi la partita non è assolutamente finita un'ottima gara Giuliano pressato da Luiso allontana Jugovic al volo Dimash inserimento di Deschamps che poi cercava di allargare ora Lucci di Francesco Riesce a uscire dalla sua metà campo il Piacenza lo fa ora con Valtolena portato da Scienza si allarga a Tentoni anche Luiso che però è fuori gioco e allora costringe Valtolena a tenere in possesso del pallone reclama un fallo che Cesari non concede riparte la Juve Coriuliano Amoruso bravissimo fondamentale Jugovic altro numero Dubieri va verso l'esterno il suo cross nessuno riesce ad intervenire non c'è stata neanche deviazione e quindi la rimessa sarà per il Piacenza mentre esce Porrini ed entra Conte Sergio Porrini con il numero 8 Antonio Conte Boato per l'ingresso in campo di Conte quasi pari a quello dell'annuncio del gol del Milan al Tardini ha bisogno di ritrovare minuti importanti dopo l'incidente dopo l'infortunio dopo la lunga operazione Conte qui ne avrà a disposizione poco più di 10 da qui alla fine della gara esce Taibi intanto esce Taibi ed entra Marcon che è il suo deputto in Serie A Sergio Marcon nato a Cormons provincia di Gorizia a novembre compirà 27 anni Rivaio della Sampdoria poi due anni in C2 con il Teramo promozione dalla C1 alla B con l'Andria tornato in C1 con il Siracusa solo per un anno da titolare con un'altalena tra Andria e Udinese Udinese in Serie B con quattro presenze scorso hanno 32 partite con la maglia dell'Andria quest'anno difende i pali punto importante Al delle Alpi contro la Juventus questi ultimi 10 minuti anche meno alla fine della gara Dimash Djokovic Zidane però per Djokovic Deschamps si allarga Vieri si propone anche di Libio quella di Libio di Conte senza problemi da scienza quella di Francesco che ha giocato un numero incredibile di pallone è stato Conte da fermare un passaggio diretto a Tentoni Vieri sta imperversando tutte le zone d'attacco Deschamps e poi si va all'indietro Dimash Illicarri evita proprio l'intervento scivolata del portoghese Lucci ha cercato l'uscita un po' disinvolta dalla sua tre quarti questo è il conto caro indietro per Marcon si affida ancora al suo capitano di Libio segni di tenere palla da Juventus se può perderla sta per recuperarla lo fa Zidane ma solo per un attimo di Francesco Valtolina lancio profondità Peruzzi accompagna verso l'esterno Luiso rimette al centro per Tentoni non riesce a girarsi poi commette palla subito la spinta su Tacchinardi che poi rimprovera i compagni perché hanno lasciato un'opportunità ancora al Piacenza il lancio di Valtolina Peruzzi ha accompagnato verso l'esterno del campo costringendola ad allargarsi Luiso che non ha trovato il tempo per la battuta poi non c'è riuscito neanche Tentoni Iubovic poco non si inserisce Valtolina Dimash Delicarri Ringhia l'avversario commette palla Ramoruso si rialza la posizione già battuta dalla Juve il solito Deschamps grande presenza della francese al centro campo che bilancia da tutti i ritmi i tempi formazione bianconera adesso deve guardarsi dal Piacenza chiamava palla un liberissimo Luiso che Mutti ha spostato dalla parte sinistra facendo fare il perno centrale dell'attacco a Tentoni si vede in avanti Conte che ha scambiato posizione con Di Livio Zidane le sue finte in area ma però è stato bravo Polonia a non cedere un millimetro stiamo entrando adesso negli ultimi cinque minuti della gara Conte sempre di 3 a 1 per la Juventus Jugovic sul calcio di posizione ha messo al sicuro il risultato dopo i gol di Zidane e Vieri e quello di Luiso della Speranza il dodicesimo gol stagionale per il quale Luiso mentre l'arbitro adesso va a far lottare con Valtolina che si sta avvicando in campo gli scarpini sei a posto gli ha chiesto Cesari Zidane Jugovic ormai a meno di clamorosa sorpresa la gara non dovrebbe più offrire spunti particolari ma ne abbiamo avuti tantissimi in questa sfida a partire dall'inizio di una Juventus un po' contratta una Juventus non è mai riuscita a esprimere il suo gioco una Juve che e questa era la grande novità della vigilia ha schierato il tridente rischiando Vieri Bocic e Del Piero contemporaneamente buono tutto sommato il recupero di Del Piero un po' meno la prestazione di Allen Bocic Juventus che ha convinto poco però nel primo tempo ha colto sì due volte la traversa ma non ha mai convinto a pieno e infatti Lipi è tornato subito all'antico Bianconeri si sono ripresentati in campo con il 4-4-2 più classico Jugovic riportato dal centro dalla parte sinistra del centrocampo qui prova ancora una conclusione la Juventus segna di rimpalli da biliardo alla fine il parola viene raccolto da Di Libio Zidane molto attivo proprio all'inizio della ripresa appena entrato spostato al centro al centro del campo Amoruso in avanti squadra più bilanciata questo doveva anche essere un esperimento in vista degli impegni più importanti quello con il Parma ma visti i risultati che stanno arrivando anche dal dal Tardini il grande apportamento fermo restando che la Juventus il titolo deve ancora vincere ma attenzione ancora una volta la Juve Marcon esce la porta è vuota ed è il gol numero 4 quello di Bobo Vieri che ferma anche la sua doppietta una grande partita per lui un straordinario secondo tempo da parte della Juventus gran bel gol con grande stile grande presenza grande scatto potenza e grandi fondamentali una stupenda rivelazione di questa stagione Cristian Vieri vede l'uscita del portiere lo evita abbastanza agevolmente altrettanto agevolmente mette nella porta sguarnita evita anche il tentativo estremo in scivolata di Lucci e va a festeggiare la sua doppietta se il primo gol peraltro spettacolare era stato anche aiutato da un pizzico di fortuna nel modo in cui il pallone era stato colpito questo qui è un gol estremamente voluto quando ormai siamo quasi allo scadere quarto gol della Juventus quanto il primo tempo era stato sotto tono tanto nella ripresa la Juventus ha offerto una prestazione da Juve dalla squadra che è cioè il team assolutamente più forte più attrezzato più preparato che c'è in questo momento al mondo ha detto Umberto Agnelli questo centenario sarà una cosa da ricordare e sarà veramente un anno da ricordare per la Juventus scongiuri a parte è una squadra che si sta avvicinando al grande slam un passo importante l'ha fatto questa sera con la vittoria sul Piacenza questo sonante 4 a 1 questo splendido secondo tempo aiuta per il momento anche il risultato che naturalmente non è finale quello di Parma in vista della sfida del confronto di domenica prossima e naturalmente tutti i nostri abbonati di telecalcio potranno seguire ma adesso diventa l'obiettivo da porre nel mirino nel primo piano quello del Borussia Dortmund la finale di Coppa dei Campioni il programma Monaco di Baviera contro la squadra di Hitzfeld una squadra che gioca a memoria due minuti di recupero facendo il quarto uomo Dimash chiede la triangolazione cross nel mucchio di Jugovic veramente arduo scegliere l'NVP di questo incontro il miglior giocatore i giocatori della Juventus che hanno giocato un grande secondo tempo ce ne sono tantissimi Davieri che ha firmato una doppietta a Jugovic straordinario a Moruso e Zidane che hanno dato il loro grande contributo appena entrati il solito Deschamps tra questa rosa non è facile scegliere scegliere un nome già scoccato il novantesimo stiamo entrando nell'ultimo minuto di recupero annunciato cioè il secondo di Mascina avanti Jugovic rimette nel mucchio Giuliano bravo anche lui la difesa che era un po' il reparto che poteva dare qualche preoccupazione viste le assenze contemporanee di Ferrara e Montero poi anche quelle ormai scontate soprattutto i torricelli ecco quella di Pessotto ormai ha un vasto parco uomini tra cui scegliere tutti ben rodati anche nel reparto difensivo Giuliano Tacchinardi stanno giocando con il piglio dei titolari dimostrano di valere una maglia dal titolare della Juventus ancora in avanti Marcon se la cartoccia ha provato addirittura a festeggiare una tripletta ieri questa volta non è stato fortunato sarà importante per il Piacenza mantenere questo assetto questa concentrazione e naturalmente dare qualcosa in più domenica nella sfida spareggio con il Cagliari intanto è festa grande delle Alpi perché la Juventus ha trionfato in un straordinario secondo tempo contro il Piacenza vincendo alla fine grazie anche agli spostamenti di quest'uomo che stiamo accompagnando l'abbiamo fatto prima con le nostre telecamere di spogliatore cioè Marcello Lippi ha letto perfettamente quello che era il risultato del primo tempo non tanto lo 0-0 quanto il gioco espresso dalla sua Juventus che ha dilagato con i correttivi apportati nella ripresa due gol di Vieri è un po' la bandiera di questa Juve anche se il titolo di MVP in questo caso io lo darei a Deschamps che veramente ha lavorato per 90 minuti in maniera incredibile va a raccogliere l'applauso l'ovazione e soprattutto il coro di vinceremo il tricolore la Juventus va verso la curva scirea e il tricolore questa sera è sempre più vicino in casa bianconera un'altra partita importante un'altra tappa importante era cominciata con qualche difficoltà è finita in gloria il gol di Zidane la doppietta di Vieri il gol di Jugovic c'è stato anche il gol della speranza di un Piacenza che lo ha realizzato con Luiz una buona prestazione del Piacenza anche se alla fine ha dovuto inchinarsi a una grandissima Juventus soprattutto per gli ultimi 45 minuti di gioco è tutto concludiamo qui il collegamento con il delle Alpi non prima naturalmente di aver rivisto i gol qui vediamo intanto la scheda riassuntiva i gol che vi dicevo dovremmo rivedere anche i gol appena la nostra regia è pronta qui intanto vediamo i numeri riassuntivi guardate quello più significativo di tutti cioè i tiri nello specchio della porta ricordo che prendiamo i tiri nello specchio della porta sono 13 quelli della Juventus contro i 4 del Piacenza una Juventus che ha avuto anche 9 calci d'angolo guardate il possesso palla 36 minuti contro i 25 del Piacenza e sottolineo che è un Piacenza che non è stato assolutamente compiacente non è stata una squadra che si è inchinata di fronte alla Juventus è una squadra che ha affrontato quasi alla pari soprattutto nel primo tempo i bianconeri ma che alla fine si è dovuta inchinare veramente una grande Juve guardate ancora le condizioni meteorologiche su Torino sono state un ingrediente in più contro la Juve ma la Juve questa sera negli ultimi 45 minuti di gioco è stata veramente più forte di tutto dicevo MVP che va a premiare Didier Deschamps ma tanti sono i giocatori che meritano la citazione anche Dimash ma in generale tutti i giocatori hanno giocato un grande secondo tempo importante sottolineare quello che è l'apporto della panchina da parte di Lippi che ha capito la difficoltà del Juventus nel primo tempo forse abbiamo assistito questa sera alla bocciatura del tridente non tanto dei singoli quanto dello schieramento anche in ottica Coppa dei Campioni e questo è un po' il risultato che emerge al di là di quello che vedete in sovraimpressione dalla gara vinta con il Piacenza io chiedo alla nostra regia se siamo in grado di proporre i replay dei gol probabilmente sì tra qualche tra qualche istante è una Juventus quella di stasera che può naturalmente poi fare i conti con quello che è stato nell'arco dei 90 minuti l'apporto di tutti i suoi uomini era importante capire quanto potesse essere recuperabile Del Piero a che punto è il recupero di Del Piero e Del Piero ha dato segnali importanti dal punto di vista fisico per i 45 minuti in cui è stato in campo ha dato risposte importanti per la volontà e anche per l'umiltà con cui ha affrontato la gara ha partito largo sulla fascia sinistra poi si è anche accentrato è andato a fare la seconda punta un Del Piero che non ha avuto la chance di dimostrare qualcosa anche nel secondo tempo ma certo Lippi molto attento avrà colto anche gli aspetti positivi del suo gioco naturalmente la coppia offensiva che si propone in maniera prorompente anche in virtù di questa partita è quella giovane ancora una volta quella formata da Amoruso e Vieri Vieri è andato in gol Amoruso ha creato gli spazi giusti nel secondo tempo lui con Zidane non soltanto con una squadra più bilanciata con il 4-4-2 ha dato un assetto diverso di gioco ma ha dato anche la spenta agonistica importante alla Juve in fase offensiva adesso il pubblico ha sfollato tutto delle Alpi io sono sempre qui in attesa di capire se è possibile o meno proporre i replay dei gol e lo chiedo alla nostra regia mi dicono di sì eccole qui ed eccoci allora con le reti di questa gara apre Zinedine Zidane si inserisce benissimo taglia fuori Max e Taibi e depone piatto sinistro nella porta sguarnita il cross di Porrini il controllo di Vieri sfrutta l'errore di Mirko Conte poi di destro batte al volo prende il pallone di leggero esterno una traiettoria beffarda per Taibi poi rompe Luiso e batte Peruzzi dopo l'azione di Valtolina per il 2-1 che rivediamo ancora Luiso va di testa sporca tiene vivo il pallone Valtolina il rompe allora Luiso un po' dimenticato dei difensori della Juventus non può nulla questa volta Peruzzi che invece era stato decisivo nel primo tempo il gran gol di Potenza su punizione da parte di Jugovic per il 3-1 e la partita finisce invece con il quarto gol la ciliegina la doppietta di Cristian Vieri grande partita la sua una grande Juventus in questo secondo tempo lo scudetto è più vicino in casa bianconera io vi ricordo il risultato finale Juventus batte Piacenza 4-1 complimenti anche alla Piacenza sarà un appuntamento importante quello di domenica anche questo per i nostri abbonati di telecalcio Piacenza Cagliari naturalmente la super partita sarà Juventus Parma ma con questa immagine di gioia Massimo Manella vi ringrazia dell'attenzione dallo stadio delle Alpi per l'attenzione e vi ricordo che gli appuntamenti con la Juventus e con tutte le squadre sono sempre naturalmente per tutti i nostri abbonati di telecalcio di telecalcio di telecalcio di telecalcio